Io sono Gianluca Latino, ho 29 anni, sono un venditore e appunto cerco un posto di lavoro in questo settore. Ho fatto gli studi in Italia, ma studi d'arte, poi ho fatto un paio di formazioni, ho studiato come parrucchiere e come barman dopo, però nel tempo sono state professioni che poi non ho in realtà fatto perché venendo qui in Svizzera ho cambiato il settore, perché un datore di lavoro aveva bisogno di una persona, io ho tentato comunque di mandare una candidatura e lì è partita l'esperienza poi più importante lavorativa che ho avuto fino adesso, che è stata in vendita presso un noto rivenditore di orologi a Lugano. Credo di essere nel programma occupazionale perché parlando con il mio collocatore conoscevo in parte già quello che è Cati Shop, fra virgolette ho chiesto se c'era la possibilità di farlo qui e siccome c'erano i presupposti è andato in porto. Quando viene assegnato un programma occupazionale la gente è un po' spaventata. Io ho trovato davvero una situazione eccezionale, non me l'aspettavo così bello diciamo. Credo che ci siano persone di culture diverse, provenienze diverse, ma siamo riusciti a creare un super gruppo e vengo al mattino felice di affrontare la giornata lavorativa, pur pesante che sia perché comunque noi ragazzi dentro Cati Shop facciamo i lavori, fra virgolette, un po' più pesanti. Al mattino arriviamo, prepariamo le squadre assieme ai nostri responsabili e cominciamo la nostra giornata lavorativa. Andiamo in giro dalle persone a consegnare i mobili che magari hanno comprato o a ritirare la merce che loro regalano. Questa cosa di poter aiutare le persone mi gratifica tanto perché comunque Caritas lavora nel sociale e fare parte di questo, chiamiamolo progetto, mi gratifica e rende la mia giornata un po' leggera anche se poi non lo è perché siamo lì sempre a tirar su mobili. Però anche quello che è fatto nel migliore dei modi è sempre con un sorriso stampato in faccia. È una cosa che consiglio, nel senso che quello che dico alla gente è di non spaventarsi se il collocatore propone un programma occupazionale perché voglio dire, tanto meglio di stare, fra virgolette, poi seduti nel divano a far nulla perché hai la possibilità comunque di reinserirti bene alla vita lavorativa, alla vita normale di tutti i giorni. Avendo lavorato nei negozi negli ultimi anni comunque il mio lavoro è quello di venditore, mi piacerebbe tantissimo tornare comunque in vendita perché il rapporto con la clientela, avere questa possibilità di avere un rapporto diretto è quello che preferisco, quello che mi piace di più. Il destino ha voluto che ci fosse una proposta da parte del cantone proprio in questo periodo per fare una riqualifica. Io ho lavorato nel settore orologiaio però non c'era mai stata la possibilità di andare a fondo con gli studi del settore e appunto la mia responsabile qui di Cutty Shop mi ha proposto questo progetto del cantone e adesso stiamo andando avanti su quel progetto lì. Se fossi un datore di lavoro cercherei una persona come me, in realtà. Questa è la risposta che ti dico perché riesco, almeno da quello che ho potuto vedere qui in Cutty Shop, in passato, nella vita sono comunque sempre arrivato alla gente e sai, nell'ambiente lavorativo è normale, bisogna separare quello che è il divertirsi dal lavorare, però se metti le due cose insieme secondo me si viene a creare la situazione idilliaca e un datore di lavoro dovrebbe cercare persone così, che riescano a far combaciare queste due cose. Serietà e divertimento insieme è quello che secondo me io riesco ad offrire, è un datore di lavoro che cerca una nuova persona o ha bisogno di una persona, dovrebbe optare una persona del genere.